Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di B-Cute Fitness, io sono Gianluca Pitrucci e nel video workout di oggi andremo a fare un lavoro per la parte superiore. Infatti lavoreremo con i muscoli della schiena, i muscoli dorsali, le spalle, i bicipiti e i tricipiti. Un bel lavoro sulla parte superiore. Abbiamo bisogno del tappetino, di una coppia di pesi, ho preparato i manubri, ma potete utilizzare i pesi che avete a disposizione in casa. Andremo a fare 4 esercizi, ok? Da ripetere in sequenza per 5 volte. Quindi ragazzi, il lavoro lo faremo a tempo, 45 secondi di lavoro, 15 secondi di recupero tra un esercizio e l'altro. Quindi ragazzi, non ci resta che preparare il tappetino, pesi e siamo pronti ad iniziare questo nuovo video workout insieme. Benissimo ragazzi, partiamo con il riscaldamento e iniziamo dalle circonduzioni qui sul posto. Spaldiamo bene tutta la parte superiore. Il focus di questo workout sarà proprio, come dicevo, la parte superiore, quindi i muscoli della schiena, delle spalle e delle braccia. Cambio. Espiriamo. 2, 1, vai, adesso allungo qui. Lungiamo bene i muscoli dell'avambraccio e del bicipite. E cambio. Facciamo un po' di stretching. 3 secondi e cambiamo. Perfetto. Espiriamo. Mi raccomando, per il peso ragazzi, scegliete un peso adatto al vostro livello di allenamento. Cambio di nuovo. 2, 1, adesso qui, vai. Portiamo bene indietro, scaldiamo bene l'articolazione delle spalle. 2, 1, adesso distendiamo le braccia qui. Andiamo ad avvicinare e allontanare le scapole. Spalle campe basse. È l'ultimo e poi iniziamo ragazzi. 3, 2, 1, perfetto. Iniziamo. Impostato il timer. 45 secondi di lavoro, 15 secondi di recupero. Si parte con il primo esercizio dove andremo a fare ragazzi. Movimento combinato tra bicipiti e spalle. Potete farlo con due o con un peso. Andiamo a fare questo. 1, 2, e spinta in alto. Ok? Ci sono due movimenti per i bicipiti e uno per le spalle. Va bene anche con un solo manubrio. Partiamo in 10 secondi ragazzi. Ok. Vai. 1, 2, porto qui le spalle e brazzo. Torno. 1, mi fermo, torno. 2, porto le spalle, spinta in alto. E di nuovo. Controlliamo sempre i movimenti. 2, porto le spalle, press. Vai. Giù. 2, 3. Vai. 1, 2, 3. Porta le spalle. Spinta. Vai. E stop. Benissimo. Secondo esercizio andiamo schiena a terra ragazzi. Adesso passiamo ai tricipiti. Quindi da qui andremo a fare un movimento alternato se utilizzate due manubrie. quindi fletto un braccio, torno, fletto l'altro, torno. Per rifarlo anche in doppia presa con uno. Bene, fino ai 90 gradi e torno. Mi raccomando, il braccio è bloccato. Muoviamo solo gli avambracci. Vai. Muoviamo solo gli av USSR. Ehi. Muoviamo solo gli avanti. Benissimo. Ottimo ragazzi. Adesso. I piedi, passiamo un esercizio di tirata E andiamo a fare delle remate per il dorso Doppio peso Chi vuole anche con uno, va bene Busto inclinato in avanti e tiriamo bene verso dietro il gomito Tiriamo bene le scapole e il dorso Vai Parto da qui fuori Inspiro Vai E stop Benissimo ragazzi Terzo esercizio fatto Ci rimane l'ultimo Andiamo a fare un esercizio per le spalle Combinato tra alzate laterali e alzate frontali Quindi due alzate laterali e due frontali Qui Due Se non ce la fate in alzate laterali Continuate solo con le alzate frontali Va bene anche con un solo peso Vai Vai E stop Ottimo ragazzi Prima serie andata Adesso recuperiamo 15 e ripartiamo dal primo esercizio Come dicevo sono 4 esercizi ragazzi da ripetere per 5 volte Ok Quindi il primo ripartiamo Bici per i più spalle Vai E su Torno Giù piano Due E presso Vai Torno Presso Vai Su E stop Ottimo ragazzi Vai Seconda serie Abbiamo iniziato con il primo esercizio per bici per le spalle Passiamo adesso alle distensioni del gomito per il tricipere Possiamo farlo alternato oppure con uno in presa doppia Vai Sempre controllato E su Ispiriamo Vai Stop Benissimo ragazzi Ci abbiamo La seconda serie di remata Remata doppia Quindi per il dorso Quindi sempre grandorsale Mi raccomando qui è la posizione del busto Quindi il busto rimane Bene inclinato in avanti E andiamo qui Torno Controlliamo sempre Tutti i movimenti Ragazzi Dare il patin fuori E stop Benissimo ragazzi Recupero Adesso passiamo alle alzate laterali Più le alzate frontali Ok Qui mi raccomando se non ce la facciamo Nell'alzata laterale Ok Facciamo tutto Alzata Frontale Ok Va bene anche con uno ragazzi Quindi va bene sempre questo Tanto l'attivazione è sempre Sulla spalla Vai 2-2 2-2 Vai Oppure se volete provare con due pesi Lo fate alternato Qui 1 2-2 1-2 Ok Quindi anche alternato va bene E stop Benissimo ragazzi Seconda serie andata Adesso iniziamo la terza serie E si riparte dai dicipiti E dalla spetta delle spalle Anche qui ragazzi Se non ce la facciamo Possiamo farlo alternato Quindi 1-2 Spetta Spetta Ok Vai 2-2 Vado qui Spetta in alto Torno piano 1 2 3 Torno Vai Vai Ancora E stop Ottimo ragazzi Vai Ben iniziato la terza serie Adesso di nuovo Tricipite Quindi sempre alternato Ragazzi Oppure con uno In doppia spinta Ok Vai Vai Baceno sempre alto Bene Fili di 90 gradi E stendiamo Respira Respira E stop Ottimo ragazzi Abbiamo di nuovo i dorsali Quindi di nuovo dorso Terzo esercizio Rimata doppia Concentrati Vai Bene la schiena Spalle sempre basse Sedere indietro Ok Cerchiamo bene l'attivazione Del dorsale ragazzi Parliamo del muscolo Della schiena Un muscolo molto Voluminoso ok Bisogna di un bel carico E di un'esecuzione ovviamente Corretta Schiena sempre dritta Trazione Stop Ok Recupero Abbiamo ragazzi il quarto esercizio della terza serie Poi la completiamo Di nuovo Due alzate laterali E due Alzate frontali Mi raccomando Nelle alzate laterali Non andiamo oltre i 90 gradi Ok Quindi qui ragazzi ci fermiamo E attenzione a non compensare Con le spalle Ok Vai Controllo Bene i gomiti verso l'esterno Anche Anche nell'alzata frontale Non oltre La linea Della spalla Ok E stop Ottimo ragazzi Recuperiamo Terza serie andata Ne rimangono ancora due Quindi si riparte dai bicipiti E poi La spinta per le spalle Ok Concentrate adesso Perché siamo stanchi Ragazzi Ma non molliamo Vai Controllo Due E press Vai Due Quando siete stanchi Della spinta Aiutatevi Leggermente piegando le gambe Ok Vai Vai E stop Ottimo ragazzi Perfetto Precipiti Torniamo giù Sempre Prima un braccio Poi l'altro Rimaniamo concentrati Il bacino Rimane sempre spinta Ragazzi Per mantenere poi Sia l'attivazione Abdominale E quindi la schiena Piatta Spiriamo Spiriamo Muoviamo solo I manbracci Ragazzi Vai Benissimo Allora abbiamo il dorso Ragazzi Poi rialzate i laterali E i frontali E completiamo la quarta serie Questa è la penultima serie Ragazzi Poi ne rimane ancora Una Adesso siamo stanchi Ragazzi I muscoli Della parte superiore Sono abbastanza affaticati Però Non molliamo Vai Un bel focus Tutto sulla parte Superiore Qui la presa Ragazzi Non deve essere Stretta Quindi Lasciamo sempre Le mani Abbastanza morbide In modo da Concentrarci Poi Sull'attivazione Dei dorsali È il gomito Che tira Patti fuori E stop Ottimo Ok Abbiamo di nuovo Le alzate laterali Con le alzate frottali E poi Ultimo giro Ragazzi Forza Accentrati Mi raccomando Qui ragazzi Ora che siamo stanchi È molto facile Compensare Quindi cerchiamo Di stare Bene giù con le spalle Vai Fatti Via Qui lavoriamo su Sia la porzione mediale Che anteriore Del deltoide Della spalla Stop Ottimo ragazzi Quarta serie andata Ci rimane La quinta e ultima serie Quindi quattro esercizi E ci siamo Ragazzi Concentrati Perché Siamo stanchi Ma non dobbiamo mollare Di nuovo Bicipiti Due E spinta per le spalle Una Vai Trollo Due Spinta Giù Giù Su Torno piano Spalle Sempre basse Torno Giù E stop Ottimo ragazzi Si sentiva quest'ultima Anzi già dalla quarta Sentiva parecchio il lavoro E la fatica Ok Però cerchiamo di rimanere Concentrati ragazzi Sulla testa Quindi non molliamo Ancora testa Dai Tre esercizi E ci siamo E ci siamo ultima testo ottimo ragazzi abbiamo gli ultimi due esercizi quindi versati poi chiudiamo con una deltate con la spalla e ci siamo vai quindi dorso ora forza ragazzi lavoro molto concentrato con brevi recuperi e un altissima intensità bene il patin fuori 10 secondi ancora dai 8 7 6 5 4 3 2 1 e stop benissimo ragazzi ultimo recupero ultimo esercizio alzate laterali alzate prontari quindi chiudiamo con le spalle forza ragazzi centrati e via movimenti sempre controllati quindi va bene anche alternato qui ragazzi 1 2 3 e 4 vai quindi quando siamo stanchi continuiamo alternato vai e stop ragazzi ottimo lavoro 20 minuti sul cronometro abbiamo terminato questo workout per la parte superiore non ci resta che iniziare lo stretching allora partiamo qui in quadrupedia rallugare i muscoli del avabbraccio quindi quadrupedia portiamo le 10 volte verso l'interno e spingiamo bene in avanti col peso bel lavoro ragazzi in solo i 20 minuti abbiamo allenato la parte superiore ovviamente è un lavoro che è adattabile in base al nostro livello basta scegliere un carico adeguato e con il passare delle settimane possiamo provedire con l'intensità aumentando il carico di lavoro oppure aumentando il numero di ripetizioni nello stesso tempo in 45 secondi posso riuscire a fare più ripetizioni mantenendo sempre la tecnica corretta adesso da seduti gambe tese dita delle mani rivolte verso il dietro battini fuori rubiamo bene le scapole e le spalle perfetto da qui piego leggermente le gambe sempre con la stessa posizione delle mani spingo il bacino in alto spingo il bacino allungo bene le spalle e torno giù nuovo torno nuovo vai ancora e stop benissimo torniamo su ora spingiamo il gomito verso il basso quindi allungo il tricipite respiriamo cambio cambio lato ragazzi ok adesso chiudiamo con i muscoli del collo e facciamo delle circonduzioni del capo piano cambio ok da qui spingo il capo verso il basso rimango giù in tenuta e stop ragazzi ci siamo ottimo lavoro per la parte superiore infatti abbiamo allenato bicipiti bicipiti dorsali e spalle spero che questo video workout ti sia piaciuto se ti è piaciuto ti invita a lasciare un like commento qui sotto e ti ricordo che ogni settimana esce un nuovo contenuto io ti aspetto sempre qui da Luca Pedrucci di Tute Fitness grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!